Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli. Musica Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito. Un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio a Ponte Nizza. La vittima sarebbe precipitata da un tetto riportando gravi lesioni. Il fatto è avvenuto poco dopo le 16. Sul posto è stato fatto arrivare l'eri soccorso che ha trasportato il ferito al Policlinico San Matteo dove è stato ricoverato in codice rosso. Le indagini su quanto avvenuto sono state prese in carico dai carabinieri con il supporto dei funzionari dell'ispettorato del lavoro. Oggi è una giornata importante riguardo al caso che ha coinvolto l'ex Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici. L'ex Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici avrebbe sparato a IUNES e il bussetta Ui lo scorso 20 luglio estraendo la pistola dopo essere caduto a terra e dopo aver ricevuto un colpo dalla vittima. L'hanno spiegato i testimoni sentiti lunedì pomeriggio in procura nel corso dell'incidente probatorio. Il secondo testimone in particolare confermando quando spiegato inizialmente avrebbe anche mostrato con i gesti i movimenti dell'ex Assessore nel momento dello sparo. Da quanto emerge dalle testimonianze sembra venire confermata la tesi del colpo partito durante una collutazione tesi corroborata anche da un video in cui si vede chiaramente il bussetta Ui sferare un pugno ad Adriatici. Ma emerge un ulteriore elemento dopo la prima aggressione che ha fatto cadere a terra l'ex Assessore alla Sicurezza. Prima di avventarsi nuovamente su di lui il marocchino avrebbe raccolto qualcosa da terra, forse un oggetto contundente, forse un coccio, non si sa, ma secondo la difesa del politico che sabato si è vista negare la richiesta di scarcerazione, si tratta di un elemento che potrebbe essere importante. L'avvocato difensore della famiglia Elbussetta Ui, Marco Romagnoli da parte sua, spiega al contrario che le testimonianze messe verbali in procura non fanno che confermare quanto sostenuto fin dall'inizio. Non si è trattato di legittima difesa, ma di un atto sproporzionato, insomma un omicidio a tutti gli effetti. La difesa di Elbussetta Ui ha inoltre ribadito la richiesta di visionare il filmato della videocamera di sorveglianza del comune che potrebbe fornire ai periti di parte elementi utili alla ricostruzione dei fatti. I prossimi giorni la procura potrebbe concederne la visione, ammesso e non concesso, che come già asserito dalla pubblica accusa, da quelle immagini non si potrebbe trarre nessun elemento decisivo. Il prossimo 6 dicembre in procura potrebbe essere sentita la terza testimone, oggi assente, una donna di origine romena che nel frattempo è tornata in patria. Il processo potrebbe subire una svolta già nei prossimi giorni. Il 20 ottobre scadono infatti termini per la custodia cautelare dell'ex assessore Adriatici, ma prima ancora i magistrati potrebbero optare per il giudizio immediato. Un'ipotesi definita possibile dai legali e che senza variare il capo di imputazione da legittima difesa a domicidio sposterebbe in là di altri mesi la scadenza degli arresti domiciliari. Al termine della giornata di oggi entrambe le parti, la difesa di Adriatici e quella della famiglia Ebussetta Ui, hanno elementi di soddisfazione. Sentiamo. Hanno confermato per filo e per segno, grazie ad un interprete, visto che sono stranieri, quanto dichiarato già alle forze dell'ordine all'indomani dei fatti di Piazza Meardi, ma ancora una volta i dettagli emersi grazie ai testimoni oculari portano gli avvocati delle due parti in causa a conclusioni diametralmente opposte. Per Gabriele Pipicelli, difensore di Adriatici, è stato confermato che era in corso un'aggressione e che Adriatici si sarebbe soltanto difeso. Due testimonianze sostanzialmente convergenti con Adriatici che dopo essere stato colpito una prima volta viene di nuovo aggredito e mentre questa aggressione è in corso viene esploso un simbolo colpo dell'arma di Adriatici che è quello che ha vinto la vittima. Questo ragazzo va bene raccolto un qualche cosa da terra dal momento in cui poi si è avventato su Adriatici. Con quel qualcosa in mano di nuovo si è portato ad aggredito Adriatici. Erano a distanza estremamente ravvicinata nel momento in cui il colpo è perdito. Per Marco Romagnoli che con Deborah Piazza difende la famiglia marocchina e il bussetta Ui, al contrario le testimonianze chiariscono in modo lampante che si sarebbe trattato di un omicidio e che il capo di imputazione dovrebbe essere subito cambiato. Hanno confermato quello che avevano già detto descrivendo una circostanza per la quale Adriatici dopo aver ricevuto lo stiafo cade a terra sdraiato sulla schiena Iunzi gli si fa sopra, gli si avvicina al volto, quando è una distanza di circa 40 cm dal torace dell'assessore che è sdraiato a terra lui stesso proteso in avanti L'assessore con la mano destra impugna la pistola e gli spara. Rappresenta una circostanza diversa da quella ritenuta come probabile dei rischi che parlavano del fatto che lui avesse sparato per sbaglio mentre cadeva Quindi rappresenta una circostanza per la quale la procura a mio avviso deve contestare un omicidio di carattere volontario Non si può rappresentare una legittima difesa nei confronti di una persona che viene colpita a mani nude e risponde esplodendo un corpo di pistola in zona toracica Con un funzionamento di tipo espansivo, non può configurarsi una legittima difesa sotto nessun profilo Picchiata dal marito davanti al figlio minorenne, successo ieri in tarda serata a Ciravegna La signora è riuscita a chiedere aiuto chiamando i carabinieri Su posto si sono recati i militari della stazione di Gravellona Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine tra i coniugi si sarebbe originata una dita molto violenta alcune della quale sarebbero scattate le percosse Il marito, 53 anni, è stato arrestato e portato al carcere di Pavia La moglie è stata medicata in ospedale dove è stata riscontrata una prognosi di 25 giorni Ancora cronaca con il giallo dell'operaio trovato morto in casa a Pavia È giallo a Pavia sulla morte di un operaio ucraino di 45 anni trovato senza vita in un appartamento di un condominio di via Robecchi Bricchetti, proprio dietro alla stazione ferroviaria La sua compagna, che da alcune ore cercava di mettersi in contatto con lui, è riuscita ad entrare in casa sua venerdì sera assieme a due amici E lo ha trovato riverso faccia a terra, con alcune ferite alla testa I tre hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura assieme al medico legale Quando quest'ultimo ha girato il corpo, ha scoperto che la vittima aveva un coltello da cucina conficcato nel petto La polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo molto accurato Ma non sarebbero state trovate tracce di altre persone nell'appartamento e non ci sarebbero segni di aggressione o di lotta Stando a quanto ricostruito, il 45enne soffriva di depressione a causa di problemi legati all'alcol Secondo quanto appurato dalla polizia, sembra che fosse anche in cura al CERT, il servizio per le tossicodipendenze del capoluogo L'ipotesi più probabile resta quella del suicidio, ma al momento gli inquirenti non escludono neppure l'ipotesi dell'omicidio Sul caso è stata aperta un'inchiesta, il magistrato di turno della procura della Repubblica di Pavia Ha disposto l'autopsia per cercare di fare chiarezza sulle cause della morte Anche provincia di Pavia si sono organizzate iniziative di solidarietà nei confronti della CGL Vittima di un attacco nella sede nazionale di Roma durante una manifestazione non autorizzata di No Green Pass In risposta alle violenze, diversi sindacalisti, esponenti politici e semplici cittadini Si sono radunati ieri davanti alle principali sedi provinciali di Pavia, Vigevano e Voghera Che per l'occasione sono rimaste aperte per l'intera giornata Nel momento dell'attesa per la vicenda del piccolo Eitan Si sono concluse in Israele le udienze per discutere il suo affidamento Ora, nelle prossime due settimane, arriverà la decisione dei giudici Arriverà entro due settimane la sentenza sul caso di Eitan Biran Nella giornata di domenica si è tenuta l'ultimo udienza a porte chiuse al tribunale della famiglia di Tel Aviv Una seduta che è durata più di 12 ore Nel corso del fine settimana sono stati ascoltati diversi testimoni delle parti Tra cui anche un esperto di diritto italiano Il dibattimento si è svolto interamente sulla base della Convenzione dell'AIA Sulla sottrazione internazionale dei minori Convenzione di cui sono firmatari sia Israele sia l'Italia La ziaia, che è la tutrice legale di Eitan Chiede di poter riportare il bimbo nel nostro paese dove vive ormai da anni I legali dei Peleg, i nonni materni di Eitan Contestano però la legittimità dell'affidamento E anche la definizione di abituale residenza di Eitan La giudice Iris Ilotovic-Segal Chiamata a gestire un caso mediatico particolarmente delicato Dovrà quindi stabilire se consentire il rientro del bambino in Italia O se accogliere la richiesta dei nonni materni Visto che le parti potranno appellarsi contro il verdetto Non è escluso che la conclusione della vicenda possa slittare ulteriormente dopo la sentenza Sulla tutela di Eitan tra l'altro Pende ancora il ricorso italiano dei Peleg Che verrà discusso il prossimo 22 ottobre Al Tribunale per i minorenni di Milano I sindaci eletti nelle elezioni amministrative dello scorso weekend Si sono già messi al lavoro E a Garlasco è stata nominata la nuova giunta È bastata meno di una settimana a neoeletto sindaco di Garlasco Simone Molinari per annunciare la nuova giunta Nel weekend sono state sbrigate le formalità burocratiche Nella serata di domenica è arrivato l'annuncio ufficiale Quattro assessori, due uomini e due donne Teresa Dall'Era, Isabella Panzarassa, Riccardo Tosi e Francesco Sant'Agostino Due conferme, una promozione e una novità Partiamo proprio da quest'ultima perché si tratta di un passaggio di consegne tra madre e figlia Teresa Dall'Era in quota Lega è stata nominata vice sindaco e assessore a servizi sociali Cultura, pubblica, istruzione, associazionismo, comunicazioni, trasporto e turismo Succede nell'incarico di vice sindaco a sua madre Giuliana Braseschi Ereditandone anche la maggior parte delle deleghe La seconda novità in giunta è rappresentata da Riccardo Tosi Consigliere delegato a commercio ed eventi nell'amministrazione uscente Ora ricoprirà lo stesso incarico ma in veste di assessore A lui sono state affidate anche la polizia locale, la protezione civile e le attività produttive Confermato ai lavori pubblici Francesco Sant'Agostino Che però nei prossimi cinque anni avrà un'ulteriore delega pesante Quella all'urbanistica Per l'esponente di Forza Italia anche l'incarico per lo sport Conferma piena infine per Isabella Panzarasa Che nella nuova giunta mantiene esattamente le stesse competenze degli ultimi cinque anni Ambiente, ecologia, agricoltura, innovazione tecnologica e pari opportunità Avremo un capitolo dedicato a pandemia e lavoro Pochi giorni all'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass anche sui luoghi di lavoro C'è un nuovo intervento della Will che evidenzia come ci siano ancora dei problemi Da venerdì 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio su tutti i posti di lavoro Sia pubblici che privati Una misura che sta generando forti polemiche politiche e non solo Sul tema i sindacati hanno un'idea ben precisa Il certificato verde è uno strumento utile Ma vista l'impossibilità di far vaccinare tutti Si sarebbero dovuti rendere gratuiti i tamponi Ma noi l'abbiamo già detto un po' il nostro pensiero Noi siamo favorevoli alle vaccinazioni Noi cerchiamo di favorire il più possibile La possibilità che tutti i lavoratori si vaccinino e siano vaccinati Quella piccola percentuale che non ritiene di vaccinarsi Chiaramente mette poi in discussione il discorso pandemia Il 15 partirà il Green Pass anche per tutti i lavoratori Noi anche qui saremo attenti a far sì che la regola venga rispettata Dando per scontato una cosa che ormai non è scontata Noi ritenevamo che il Green Pass è un aspetto positivo per garantire la sicurezza Sappiamo che c'è una percentuale di lavoratori che per una serie di ragioni non sono vaccinati In prima battuta, ritenendo che era uno strumento legato alla sicurezza Abbiamo chiesto che i tamponi siano gratuiti Perché non ci sembrava giusto far pagare a questi lavoratori Il fatto di garantire la sicurezza per tutto il mondo del lavoro Uno è i tamponi gratuiti che sta creando parecchi problemi ai sindacati nella gestione della quotidianità Le risposte, come si sa, sono state negative a tutti i livelli Di conseguenza dobbiamo gestire questa fase qua che sarà una fase complicata La posizione del sindacato è quella di cercare di, con ulteriore formazione Cercare di spiegare bene le motivazioni per cui tutti i lavoratori si devono vaccinare L'appello della Wille ai lavoratori, da pochi giorni dall'obbligo del Green Pass È di vaccinarsi per non penalizzare interi comparti Il messaggio che noi diamo da sempre è quello che ci dobbiamo vaccinare tutti Per garantire a tutti la sicurezza Il Green Pass è uno strumento che è stato introdotto E noi poi ne abbiamo anche valutato positivamente Perché permetterà di continuare a lavorare Permetterà di non tornare in fase di chiusura totale Chiaramente però con le giuste misure Dando per scontato una cosa che noi abbiamo sempre chiesto Noi eravamo anche favorevoli all'obbligo vaccinale Che avrebbe tolto qualsiasi tipo di ragionamento e di polemiche E metteva tutti, non solo i lavoratori Ma tutta la popolazione del nostro paese In una situazione di sicurezza Questa scelta coraggiosa il governo non l'ha fatta E siamo noi in un ragionamento dove noi chiaramente Spingiamo e favoriamo l'aspetto della vaccinazione E l'utilizzo del Green Pass è un aspetto positivo Perché permetterà di continuare tutte le attività lavorative Però crea delle frizioni come stiamo anche vedendo Dalle manifestazioni che ci sono in tutta Italia Le cifre sull'andamento della campagna vaccinale Oggi tra l'altro l'assessore a welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che si è raggiunto il 90% Rispetto all'operazione sopra i 12 anni in Lombardia Della somministrazione di almeno una dose Quindi 9 lombardi su 10 tra quelli vaccinabili Hanno ricevuto almeno la prima dose Questi invece sono i dati dell'incidenza Cioè i nuovi casi ogni 100.000 abitanti Calcolati nella media degli ultimi 5 giorni Come potete vedere sono dati in ulteriore ribasso Ascom Pavia ha fornito alcune stime Su quella che potrebbe essere la ripresa economica in città In questa fase di riapertura ormai consolidate Soffrono ancora i negozi Tra l'altro c'è un nuovo servizio per i commercianti Una mutua in caso di infezione da Covid Aiutare i commercianti colpiti dal Covid Ma anche chi è a causa della pandemia Si è visto rinviare visite e controlli È l'obiettivo di Ascom Pavia Che ha recentemente esiglato un accordo di collaborazione Con mutua 3S Per offrire un sostegno economico agli associati L'accordo prevede una tantum da 500 euro Per i soci che si ammalano di Covid E che devono stare in quarantena Nonché 50 euro al giorno per chi viene ricoverato È prevista inoltre la possibilità di un pacchetto Che copre interventi chirurgici Con questo accordo che abbiamo fatto con la società 3S Di dare questa copertura dal punto di vista chirurgico E dal punto di vista anche sampliario per ampliare i servizi Non ultimo quella è la copertura sul Covid Che purtroppo speriamo che finisca più presto Però la copertura vuol dire anche fornire a chi Malauratamente viene colpito dal Covid Di dare una diaglia di 50 euro La cifra è minima però tutto aiuta Ma soprattutto dare una All'associato che ha colpito da Covid La faccenda della cosiddetta quarantena Che vengono forniti a chi purtroppo è stato colpito Anche 500 euro di copertura per questa quarantena Con le riaperture si sono registrati dei segnali di riprese incoraggianti Per il settore della ristorazione Spiegano da Ascom Ma il grande tema è ancora quello legato al commercio E ai negozi di vicinato Nella sola città di Pavia le chiusure sono state tante E lo stesso presidente di Ascom Aldo Poli Spiega che l'emergenza non è ancora finita Molte sono le aziende che hanno chiuso i patenti Molte sono le aziende che faticano a cercare di continuare a avere Anche perché il Covid ha bloccato la circolazione Bloccando la circolazione si è bloccata anche l'economia E i primi a soffrire sono stati i commercianti Che sono a contatto col pubblico Quindi la mancanza di forniture perché non potevano arrivare La mancanza del pubblico che entrava nei negozi Quindi hanno sofferto in silenzio Ma purtroppo la crisi ha colpito enormemente i nostri commercianti Soprattutto nella città di Pavia Vediamo che nelle due o tre vie commerciali Quanti negozi hanno chiuso o hanno cambiato gestione Perché ovviamente la gestione è diventata cosiddetto nazionale E non più dei singoli imprenditori Per aiutare il commercio anche i piccoli comuni si sono attivati Vediamo che cosa è previsto a Cavamanara Anche Cavamanara così come molti altri comuni della provincia di Pavia È in prima linea nel sostegno della popolazione Perché se l'emergenza sanitaria sembra essere sotto controllo Diverso il discorso relativo alla gestione del lato economico Tante troppe famiglie che faticano ancora a sostenere le spese ogni mese I commercianti, nello specifico, stanno pagando ancora a caro prezzo Le lunghe chiusure per il lockdown Per questo motivo l'amministrazione comunale di Cavamanara Ha deciso di prorogare il bando Che concede contributi economici alle micro, piccole e medie imprese di diversi settori Ristorazione, commercio, artigianato e servizi Nell'ambito della ricostruzione economica territoriale urbana attivi sul territorio comunale Le domande per ottenere gli aiuti economici dovranno essere presentate in comune Entro mezzogiorno del prossimo 6 novembre Il bando per poter partecipare con tutta la modulistica necessaria È invece pubblicato sul sito internet istituzionale del comune di Cavamanara In caso di dubbi e problemi è comunque possibile contattare L'associazione commercianti della provincia di Pavia I carabinieri della compagnia di Voghera hanno sventato una rissa davanti a un noto locale Della movida di Salice Terme Due giovani si stavano picchiando e sono stati divisi dai militari Uno dei due contendenti però alla vista delle divise non ha arrestato la sua furia Si è anzi scagliato contro di loro colpendo i carabinieri Si tratta di un 28enne pluripregiudicato di Voghera Ha arrestato, è stato portato in tribunale Giudicato colpevole di resistenza e violenza pubblico ufficiale Un giudice deciso per lui in appena di 10 mesi di obbligo di firma In disagio giovanile se ne è parlato molto per ragazzi Che per quasi due anni sono stati costretti alla didattica a distanza A Stradella si sta facendo un sondaggio nelle scuole per capire che aria tira Scoprire i gusti, le abitudini e le idee dei ragazzi Per tracciare un quadro degli stili di vita adolescenziali Dei rischi connessi alle cattive abitudini E' il progetto Selfie realizzato dalla fondazione Exodus di Don Mazzi E' pensato come primo passo per il contrasto al disagio scolastico Si tratta in estrema sintesi di una serie di questionari Dedicati agli studenti della scuola primaria e delle scuole secondarie Che attraverso le loro risposte daranno un contributo alla conoscenza complessiva degli studenti Ma anche permetteranno di avviare un lavoro più approfondito Verso target specifici di ragazzi Che dovessero necessitare di interventi mirati per prevenire situazioni di disagio Nel comune di Legnano per esempio Sono stati coinvolti circa 3.000 ragazzi delle scuole medie e superiori E' emerso che il 61% di loro usa lo smartphone anche la notte Quasi il 37% del campione dice di non essere soddisfatto della propria immagine Mentre il 49% cambierebbe qualcosa di sé per piacere agli altri Ma soprattutto il 26,34% più di un ragazzo su quattro Ha compiuto almeno una volta atti di autolesionismo Il progetto è stato avviato da alcuni giorni anche nelle scuole di Stradella in Oltrepopavese Cerchiamo di fare qualsiasi iniziativa, azione Per venire incontro ai giovani di tutte le fasce di età elementare alle superiori E cosa succede? Questo oggi manifesta in tanti casi un disagio Che noi vogliamo in qualche modo individuare Con gli strumenti che chi prima di noi è passato ci lascia C'è esperienze di altre amministrazioni, di altre città che dicono che si può mappare un disagio Questo progetto, progetto Selfie, in collaborazione con la Casa del Giovane Con il dottor Feder e anche con l'università Ci mette nelle condizioni di sottoporre ai ragazzi e ai bambini Delle scuole elementari e delle superiori in accordo Ci sono state tutte delle iniziative, degli incontri propedeutici Con i presidi delle varie scuole Proprio per sottoporre ai ragazzi Questi sono semplici domande di vario genere Non sono domande particolari e insidiosi Sono domande in generale che servono ad individuare Per coloro che sono professionisti Quindi psicologi e professionisti del settore Individuare qual è il disagio Poi fare una mappatura e darci un'indicazione di massima Di qual è percentualmente il disagio E come agire come passo successivo Nell'affrontare e cercare di aiutarli Per evitare, come a volte succede Che poi nell'età dell'adolescenza Si distrugge, si spacca O si percorrono strade di droga o di altro Ecco, noi lo vogliamo evitare Iniziativa per gli studenti anche a Pavia In questo caso si cerca di migliorare l'informazione Per la scelta dell'Istituto Superiore Prevenire la dispersione scolastica in provincia di Pavia Gli ultimi dati pre-covid a disposizione Risalenti al 2019 Non lasciano spazio a dubbi Il nostro territorio, insieme a Sondrio Ha il più alto tasso di abbandoni Con il 5,60% Secondo i dati diffusi Dall'ufficio scolastico provinciale Numere allarmanti Che necessitano di risposte concrete In teleottica si inserisce Approdo Un'app ideata dall'associazione Amici della Mongolfiera E finanziata con l'8x1000 della Chiesa Valdese La scelta del nome non è casuale Vuole anzi indicare una navigazione Che conduce ad un porto sicuro L'obiettivo di questo strumento È porre un freno ai numeri allarmanti Della dispersione scolastica in provincia di Pavia La nuova applicazione sarà scaricabile A partire dal primo trimestre del 2022 Inizialmente per Android Ed è destinata a tutti gli studenti Sia italiani che stranieri Potranno avere informazioni sugli istituti Di secondo grado presenti nel capoluogo L'applicazione sarà utile anche per i genitori Nell'opera di aiuto e sostegno dei figli Rispetto al delicato tema della scuola La dispersione scolastica è un problema per il territorio Reso ancora più grave Dalla lunga emergenza sanitaria Provare a ridurla Significherebbe al tempo stesso tamponare I fenomeni di dipendenze E di disagio giovanile Ben noti non solo nel capoluogo Ma su tutto il territorio Della provincia di Pavia Mauro Nespoli si è laureato nuovamente Campione italiano di tiro con l'arco Per i vogherese si tratta del terzo titolo tricolore Nel fine settimana si sono svolti Gli italiani assoluti a Verdello In provincia di Bergamo Dopo l'argento e le Olimpiadi Nespoli si è ritrovato a disputare Una finale molto combattuta Contro il giovane Peter A Astro nascente dell'arco italiano Nespoli ha vinto alla freccia di spareggio Entrambi i finalisti avevano centrato il 9 I giudici hanno dovuto effettuare Una misurazione con il compasso Decretando la vittoria Per un paio di millimetri Si sono disputati ieri I giochi del quarantesimo paglio Delle contrade Divigevano I giochi tornavano dopo un anno di assenza Causa pandemia Formula leggermente modificata Con bambini e adulti Impegnati nella partecipazione insieme La vittoria è andata La contrada dei Santi Crisprino e Crispignano Che si sono giudicati Così il cencio firmato quest'anno Dall'artista Ale Puro Non si è potuto svolgere Il corteo storico per le vie cittadine Causa difficoltà organizzative Per la normativa anti-covid Ma si è potuto comunque Permettere l'ingresso Di migliaio di spettatori in castello Per assistere alla disputa dei giochi Con questo è tutto Vi ricordo in prima serata L'appuntamento in diretta Con Orizzonti Il nuovo programma di Claudio Micalizzi Arrivederci e buona serata Grazie a tutti